Abbiamo attivato un servizio a domicilio che in realtà facevamo già per quelle persone vicine, quelle persone anziane, quindi abbiamo pensato di ampliare questo servizio e di renderlo a tutta la cittadinanza di Alghero. Buongiorno, ben trovati, buongiorno Mario, buongiorno Fausto, siamo qui con Mario De Dola, agricoltore poeta o poeta agricoltore, cosa ci mettiamo prima? Uno vale l'altro. Allora innanzitutto dove è seduto? Perché vedo qua una pietra meravigliosa. Questa pietra è posizionata qua, è trovata nei campi e rappresenta le corna del dio Abi, il dio dei Shardana e quindi si è rivelata che ha delle cariche positive della Scala Bovis, si torna ai 15.000 vibrazioni e quando uno viene qua a trovarmi... che magari è un po' giù di morale, si mette qua e torna a carico. E io li noto certe volte che si trasformano, anche senza dirgli il pregio che ha questo trono, così lo chiamo io. Qui siamo in zona, lei ha una casa qua in campagna e siamo in zona l'Eremitu, questo nome da dove arriva? La leggenda storia può darsi, ma soprattutto leggenda che è sempre la base non narrata della storia ed è la tramandazione della gente del posto su una storia della città di Barassa, dove c'è il lago di Barassa, che è il più grande lago naturale della Sardegna, lì pare ci fosse un centro abitativo che stando al cantone di Barassa, di un poeta dell'Ottocento, che lo chiamavano l'Omero non rese perché era cieco e diceva che avesse 32.000 abitanti. Dove c'è il lago adesso? Dove c'è il lago e dei ditturni naturalmente. Allora succede a Villanova una tentata invasione e il re di Villanova chiama Cesare Barcellone o Barisone e chiama in aiuto questo perché era un uomo di vaglia, così lo definisce il poeta, un uomo molto capace nella guerra. Va l'aiuta, caccia via gli invasori e al momento di accommiato il re di Villanova gli chiede cosa doveva dargli. Lui dice nessun'altra cosa che il cavallo di Boteleone Rocadoni, il cavallo verde, c'era un cavallo verde lì. Però il re di Villanova gli ha detto chiedimi tutto l'altro, ogni altra cosa che vuoi ma non il cavallo verde, non te lo posso dare. E allora non mi devi dare niente. E ritorna Cesare a Barassade in atto furioso. Allora non si doveva più celebrare i matrimoni, non più pratiche religiose, doveva essere una specie di legge liberale esasperata. Uno doveva produrre soldi, ogni anno doveva dichiarare quello che aveva realizzato. Non potevano fare le bosine, non potevano fare beneficenza, eccetera. Un vero e proprio castigo. Un vero e proprio castigo. Pare che questo fatto sia avvenuto intorno al 1100. Il 1100 è l'anno che è stato costituito l'ordine dei Templari. E quindi Amara sa piomba questo Templare sotto la forma di Templare che va da Cesare Barcellone o Barisone. E dice Cesare ma cosa stai facendo? Perché hai lasciato la legge divina? Guarda, l'ho fatta per mia decisione, guai a chi me la contesta. E no, stai attento che hai dei doveri. Oppure, e guarda, io te le faccio osservare. E guarda che dice se tu non te ne vai da qua, io di te farò sentire i suoni in giro. Mentre il Templare pare sotto le spuglie di Gesù Cristo oppure di Dio, non so, comunque rappresentava un'altra divinità, ha risposto in quel modo. Al che Cesare l'ha fatto scappare perché altrimenti c'era la seria conseguenza della punizione che gli voleva infliggere. e va al popolo e gli dice popolo di Barassa ma cosa state pensando voi di trasgredire, di ignorare la legge di Dio? e quelli, vai via perché se non te ne vai ti prendiamo a sassate, a bastonate, quello che è. E iniziano, anche i bambini gli tiravano i sassi a questo. Al che si allontana dal centro della città e va in periferia, dove c'era questa donna che faceva pane per vendere, arriva lì e si affaccia la porta, quella stava preparando il pane per infornare, e gli fa buona donna dammi un pezzo di pane che sto morendo di fame, vai via che se lo sa Barcellona a me mi mette nei guai, guarda che non ne posso più dammi un pezzo di pane, a furia di insistere prende un pezzetto di pane e lo butta dentro il forno, già pronto, e diventa grande quanto il forno. Lo toglie e allora lì per riprova butta un altro pezzo di pane. Altrettanto il miracolo si è avverato. Allora l'ha dato a mangiare, eccetera. Allora dice, visto che mi hai dato a mangiare, prendi questo canestro di pane, il figlioletto lì che c'era un ragazzino di tre anni circa, prendi e parti, non ti voltare per nessuna ragione. Quella ubbidisce e parte. Lui si allontana, fa due o tre chilometri, e va alla valle che oggi si chiama la Valle della Croce. È nome che non si sa da dove si è arrivato. E tutt'oggi si chiama la Valle della Croce. Fa questa croce a mano sinistra e si scatena un temporale, piovendo rane, vippere, ogni cosa. La gente che viene presa da un delirio o fratricida che si pungevano le spade, quello che avevano se le scagliavano contro. E poi alla fine arriva un tsunami e un botto e sprofonda barrazza. Che tutt'oggi intorno ci sarà un 600 ettari di sabbia. Io l'ho conosciuto da piccolo, prima della forestazione che è avvenuta nel 1955. c'è un deserto lunare di sabbia, montagne di sabbia. Da dove è venuta? È l'unico posto qua, al nord soprattutto, finché fosse al sud. Ma al nord una vastità di superficie sabbiosa così è un po' fuori norma. E questo eremitu, questa parola, allora dov'è? L'eremitu è derivata dal... perché questo templare, questa eremita, pernotava qua, andava da qua giù a Baras a predicare il convincimento religioso, a cambiare direttive. Poi c'è la Valle del Forno, lì. Poi c'è Lunganistreggio, che vuol dire canestro, ed è il monte lì dove c'è una tenda, non so di chi sia, se vedi a setta o rai, non lo so. Quello si chiama Lunganistreggio, dove quella donna, al frastuono, si è voltata e è diventata una statua di pietra. Non ha seguito il consiglio. Non ha seguito il consiglio. È un po' precisa quello della statua del sale. Comunque così raccontano gli antichi. In questa vicenda così, appunto, ha preso questo nome. e un pastore, nei primi del Novecento, che era con le capre in quella zona, è successa una notte, un temporale furioso, un lampo, perché lui vedeva questa statua di pietra. Un lampo ha colpito questa statua, e l'ha frattuata. Però il nome è rimasto tutt'oggi, anche nelle carte geografiche. Quindi, questo templare, Gesù Cristo, Dio, cosa è? Era uno che scendeva dall'eremitu, da questo posto, andava a Barassa a predicare la conversione di questi ormai... Non si sono convertiti e li ha sprofondati nel ploso. Molto bene. Allora, perché lei si ritiene un agricoltore poeta? Già, per discendenza. Mio padre era un poeta, il sardo e il nurrese. Mio fratello, che vive tutt'oggi, è un poeta. sardo o l'urrese, l'urrese e sassarese. Io da ragazzino ho frequentato per due... due o tre anni un collegio al Ghero, e... però per pagarmi la reta dovevo pulire il caseggiato, una cosa che oggi è inconcepibile, e quindi tempo di studiare non ne avevo abbastanza. E allora apprendevo queste cose, così si può dire, rubate dai libri che mi stavano intorno. Io frequentavo, ma non avevo... non avevo le forze di fare compiti, eccetera, che le racconto su una storia mia che ho fatto di memoria, Ita Senzio, così la penso, e... quando trovavo un libro già da ragazzino la trasformavo in poesia. Me la ricordavo per... e poi smettevo. e così, però poi è venuto l'impegno del lavoro, io sono andato via, ho iniziato a intrapreso l'agricoltura, quindi l'impresa, eccetera, molto, molto impegnativa, e... e poi la famiglia, l'impegno della famiglia, e quindi queste cose le ho trascurate. Facevo qualche poesia così momentanea, però poi nel 2012 sono andato perché ho un figlio in Brianza che ha due passi da Lecco. Siamo andati alla Casa Manzoni e poi in una libreria abbiamo comprato il... cioè c'era il Provenso Esposo in offerta e mio figlio me l'ha regalato. Questo libro mi era già venuto in mente di poterlo trasformare e quindi ho intrapreso a... a fare una versione in poesia. Che è quella? Che è questa? Il primo, poi c'è l'altro volume. E che è questa? Sono in ottave? Eh, sono in ottave tre e tre rimate e le due baciate giù, di rima baciata. Cosa significa rima baciata? Che le ultime due sono vicine la rima è vicina mentre l'altra è interposta. Eh, in questo fatto qua io sono riuscito sarà una pazzia sarà, però quando mi veniva questa turbolenza sotto quest'albero seduto sul trono mi veniva la 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 l'estero l'ispirazione e mettevo i versi quando avevo scritto rileggevo i versi anche per qualche piccola correzione e io mi meravigliavo mi meravigliavo che l'avesse fatta io addirittura ma l'ho fatta io perché se tu mi prendi così d'amblè mi prendi e mi dici fammi questo non sono capace a mettere due parole dietro l'altro proviamo a leggere un'ottava ci riusciamo facciamo l'addio di Lucia non lo so come si preferisce quindi sarebbe Lucia scappa da da Don Rodrigo perché ormai Don Rodrigo ha intrapreso ha ha manifestato appunto la prepotenza di poter sequestrare Lucia e a suo uso e consumo mentre invece padre Cristoforo l'aveva già predisposto la fuga a tutti e tre a Lucia Giese e Renzo quindi dovevano attraversare un fiume e siedono in barca e questo da qui inizia la il rammarico di Lucia l'onda segata dalla barca a riunirsi dietro la poppa segnava una striscia increspata i passeggeri silenziosi voldati all'indietro guardare i monti i paesi la luna illuminata le case capanne variate ombre lo spetro del palazzotto Don Rodrigo a Torre Piata Lucia scese l'occhio i china al paesello vide finestra di camera di Fico l'alberello questa è la rima baciata queste due sedersi a fondo barca pianza e mani in viso addio sorgenti d'acqua e monti cielo elevati cime ineguali noti a che crescer nel sorriso non meno lo sia l'aspetta di luoghi abitati torrenti conoscere lo scroccio di suono inciso nelle voci domestiche suoni così collegati ville sparse e branchi di pecore in pendio trista volta si cresciuta ma lontana addio la fantasia la fantasia di chi parla volontariamente attratta da speranza a far altrove fortuna nel momento la ricchezza è disabellente si meraviglia poterla risolvere opportuna tornardo viziosa s'avanza occhio vedente ritirarsi stanca aria gravosa creare la cuna pesari quieta capicello del mio paese tornare i monti in casuccia dell'intese questa questa è disponibile si può si può acquistare in vendita qualcuno devo trovare un editore caspita un editore lo diciamo al nostro editore che magari e io l'ho detto a tanti ma quale ecco siamo riusciti leggo l'ultima frase si adioso domo una via lì seduta nel mistero l'occulto si imparò a distinguere dal rumore dei passi comune al rumore di passo fuoriero aspettato persino con un misterioso timore addio casa sguardata di sfuggita pensiero la mente figurare soggiorno sena rossore addio chiesa rassicura animo a chi prega addio giocondità amor di figli tutto spiega quanti volumi sono? sono 740 ottave due volumi due volumi e ci sono tutti i promessi sposi? tutti naturalmente non è riga per riga no io ne leggevo io ne leggevo mesapagine ma nemmeno forse certe volte manco dieci righe per dire poi completavo il pensiero che risultava di manzoni no perché poi quando ti metti a raccontare a leggere nel libro e dunque qua ci sono anche degli insedimenti suoi nella storia nella storia qualche cosa però però qualche dettaglio cioè non che stravolge tutta la storia sulla sul coso del poeta c'è un'altra addio di di cosa di Cecilia che è favoloso addirittura addirittura ci ho messo anche non poto riposare che che Renzo va a cercare Lucia e non la trova e allora ci metto un qualcosa di ecco che dico così qua l'uomo su sentimento sovrano incanalato svolgimento quotidiano congenito familiare educata usanza ascolta affinità diventa circostanza Renzo sfaviglio reclamante cantica cantica quel soldato sardo identico intento fino qualsiasi evo coeso sentimento e allora ha detto non poto riposare eccetera 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 che a Lecco abbiamo l'abbiamo fatto questa scena e poi l'ha cantata al coro un coro sardo che c'era lì c'era la peste a Milano durante i promessi sposi descritta nei promessi sposi e Renzo entra a Milano per cercare Lucia perché una è andata a bussare a bussare in una casa e allora bastava dire se uno ti fastidiva che eri un untore e ti perseguitava tutto il popolo e lui è successa una cosa così entrato in strada Renzo a lungar passo non guardare i gombri ma oggetto pietà giovine donna soglia scende da basso verso convoglio in bellezza dar soavità portava collo bambina già in trapasso pubia pugia obero di madre trascende carità turpe monato la figlia cinge togliergli no fo 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 io su carro vesti riuno scioglierli vesti di uno scioglierli e allora dice addio cecilia riposa in pace così noi verremo ritrovarti da assieme pregare pregar noi e gli altri del senno di poi già patiti abbastanza eterno accettare dio esaudirmi creatura tiratela voi stasera chiunque ci venga a pigliare cosiddetto a casa accanto altra figliola lei e fiorello in boccia falce tagliola cioè gliela brucia anche quella vuole 27.000 euro 120 premi da 50 a 5.000 euro questa è la cifra a disposizione dei titolari dei biglietti della lotteria Alghero ti premia dal primo ottobre acquista il tuo biglietto ad Alghero sempre dall'eremito dalla tenuta in campagna di Mario De Dola adesso lo stesso Mario ci farà conoscere i suoi reperti anche archeologici i reperti antichi quelli che si trovano qui nella sua nella sua casa buona visione sono un agricoltore e mi piace sia fare bene il lavoro come vedi ho i campi di erba medica per il foraggio poi ti faccio vedere il prodotto e poi tutte le cose antiche cerco di mostrarle alla gente che vede in un modo quasi poetico visto che siamo nel campo della poesia ogni vedi gradini tutto è combinato anche se è un'azienda agricola all'insegna del buon gusto e pensa che qua c'ho i garage per le macchine agricole facciamo degli angoli di riposo perché quando qua piomba al caldo dentro casa non si può stare e allora approfittiamo dei punti ventilati anche l'azienda agricola ha bisogno del suo decoro e quando quando vieni oppure vengono anche vicinanti eccetera devi accoglierli nel modo migliore qua c'è il foraggio che è già venduto però devono venirse a prendere perché io non c'ho bestiame io sono un'azienda di produzione agricola questo prima prima avevo altri trattori però adesso ho diminuito l'impegno agrario l'impegno di coltivazione perché non è più remunerato allora avevo tenuto questo per falciare pressare e fare le cose più utili qui in campagna qua che ho aspetta che mi vengono delle vuche selvatiche e mangiano qua guarda io non so più cosa fare ho responsabilizzato le istituzioni ho paura certe volte di notte a uscire perché mi possono attaccare e devo uscire col fucile anche che sono il porto d'arma ma non sono autorizzato a portarlo lontano dall'azienda e queste se io vado giù nelle capi che poi ti faccio vedere i posti lì potrei essere anche attaccato da questi e queste vuche selvatiche vengono e poi scompaiono vengono e scompaiono hanno fatto sovraluogo una volta tutta l'apparato delle 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 interforze sia la forestale i baracelli e poi chi c'erano un'altra i volontari però non hanno risolto niente quindi sono scomparse del tutto adesso mi dicono che non ci sono più mentre io posso documentarle facilmente perché io non ho animali non ho questa è la parte dell'officina quando per ciò che mi serve in agricoltura attrezzi attrezzi tappe falci se quei falcioni addirittura ce n'è uno che usavano a tagliare i cantoni arenari questo qua da arenaria questo è un falcione che tagliava la pietra arenari gli altri due di sopra sono di legno tagliavano gli alberi poi c'è la frullana il taglia fieno che si usava una volta e così via questo serve per tagliare il ferro per fare i paletti per le recensioni al chenoti si introduca bestiame esterno qui nell'azienda perché è solo un'azienda questa a vocazione cerearicola